Gentili telespettatori, buona giornata. Il ministro della Sanità Schillaci fa un annuncio. Adesso ci sarà l'arresto in flagranza per chi va contro il personale sanitario. Abbiamo visto quante notizie ci sono proprio su casi di persone che aggrediscono il personale sanitario in ospedale. E arriva l'arresto in flagranza e io mi chiedo, ma non era già così? A volte mi stupisco delle cose che succedono in Italia. Quindi il ministro dice adesso ci sarà l'arresto in flagranza quando vengono beccate queste persone arrestate. Ma non era già così. Le leggi italiane non prevedono che ci sia l'arresto. Hanno dovuto fare una nuova legge. E così per la sicurezza del personale medico negli ospedali, che è ormai un problema nazionale, serve una risposta. Dice Schillaci, che non è il calciatore, abbiamo partecipato oggi ad un'importante riunione con il sottosegretario Gemmato e con tutti gli ordini professionali sanitari. Noi siamo intervenuti subito sul tema delle aggressioni agli operatori, che è un problema annoso della sanità italiana. Lo scorso anno nel decreto abbiamo aumentato le pene per chi commette questo tipo di atti e abbiamo anche istituito la procedibilità d'ufficio, ma questo non è più sufficiente. Ieri ci siamo confrontati con il ministro Nordio e in questo momento riteniamo che lo strumento più utile per cercare di contrastare questo fenomeno inaccettabile è di introdurre sempre l'arresto in flagranza di reato, anche di ferito. Lo ha annunciato il ministro della salute Orazio Schillaci al termine dell'incontro con gli ordini professionali della sanità ieri a Roma. Adesso ci sarà anche un incontro con i sindacati e aggiunge, ho incontrato anche il ministro Piantedosi, i posti di polizia negli ospedali sono aumentati in modo significativo e quindi il governo è sul pezzo. Si devono trovare rapidamente degli strumenti per contrastare questo fenomeno inaccettabile e poi vuole un cambio di marcia culturale. Vorrei però sottolineare che si tratta di un problema culturale, bisogna trovare rapidamente in questo momento degli strumenti per contrastare il fenomeno e poi ci vuole anche un cambio di marcia culturale. Vabbè Schillaci, il cambio di marcia culturale, culturalmente l'Italia sta peggiorando, il livello di istruzione sta peggiorando, il livello della società si sta abbassando, il livello culturale eccetera eccetera si sta abbassando. Io ingenuamente ho sempre pensato che con il passare degli anni le cose debbano per forza migliorare, quindi io ingenuamente ho sempre creduto che se oggi la scuola è così fra cinque anni sarà migliore, fra dieci anni figurati, fra vent'anni. Quindi io sono cresciuto con l'idea che sia in Italia che in qualsiasi parte del mondo con il passare del tempo le cose non possono che migliorare, matematico, invece mi sono ricreduto, mi sono assolutamente ricreduto, le cose possono assolutamente peggiorare e anche in maniera irreversibile. Quindi io ho visto che in Italia molte cose stanno peggiorando e molte altre stanno migliorando, però sono più quelle che peggiorano di più quelle che peggiorano di quelle che migliorano. Quindi quando il Ministro dice no beh ma a parte la polizia negli ospedali bisogna fare un cambio culturale. Ministro quella è utopia, anzi stiamo peggiorando, c'è un'aggressività in giro che non so esattamente da cosa derivi, però io ho notato che negli ultimi tre anni c'è stato un aumento, c'è stato un aumento dell'aggressività in generale in tutto il mondo che mi fa sospettare qualcosa, mi fa venire un sospetto. Io non sono un complottista o chissà che cosa, però questo aumento di aggressività in tutto il mondo non è una cosa solo italiana, mi sta facendo pensare e mi sta facendo cominciare a rivedere alcune mie idee che avevo fino a due tre anni fa. Insomma forse tanti che io ho criticato avevano ragione, io ridevo e criticavo molte cose, invece mi sto accorgendo che probabilmente avevo ragione. Allora a buon intenditor poche parole ci siamo capiti no? Bene. Quindi che ci sia caro ministro un cambio culturale in peggio, in peggio, c'è un cambio culturale in peggio, quindi questo tipo di fenomeno negli ospedali. Allora io ho visto in giro per il mondo che negli ospedali ci sono guardie giurate, non c'è la polizia perché è troppo costoso, non ci sono agenti sotto organico e allora vedo che ci sono uno o più guardie giurate. Però attenzione, non sono guardie giurate, quelle che ho visto io, non sono guardie giurate che fanno solo presenza e poi non possono fare niente perché devono chiamare la polizia, perché se tu metti una guardia giurata che poi non può fare niente, che serve? Ah non posso fare niente, io devo solo chiamare la polizia. Io ho visto in giro per il mondo guardie giurate che poi intervengono, non fanno solo bella figura e presenza, ma intervengono. Dubito che in Italia le guardie giurate possano intervenire come la polizia, dubito, ci sarebbero un sacco di problemi, tu non puoi però di qui. Naturalmente credo che nei pronto soccorso o negli ospedali ci debba essere purtroppo un presidio di polizia, voi direte ma dove si prendono i soldi con tutti gli ospedali che ci sono in Italia, ci metti un posto di polizia in ogni ospedale e devi raddoppiare gli agenti in Italia, non ce lo si può permettere economicamente, lo so. Quindi si hanno le mani legate, si vorrebbe mettere la polizia negli ospedali ma non si può perché è sottorganico e non puoi toglierlo da altri compiti. Ecco, quindi si potrebbe fare ma non si sa come. È un po' come assumere i medici, mancano i medici, la Schlein dice semplice, si assumono, mancano si assumono, ma non ci sono i soldi, Schlein. Quindi in questo caso dice la soluzione? Metti un posto di polizia in ogni ospedale, presenza nel pronto soccorso e come li assumi questi poliziotti? Arrivederci e grazie.